Clemente Mastella, siamo qui all'Aquila, lei ha Poggio, Giorgio De Matteis, dicevamo poco fa, dicevano in Mosulur, non si è fatto niente all'Aquila, lei è convinto, è questa la sua impressione? Guardi, mi pare che non è che sia soltanto questa la mia impressione, la fotografia di questa impressione, il che significa un dato reale, accampare ogni volta un atteggiamento di ostilità rispetto al governo nazionale o rispetto ai governi regionali e anziché guidare il processo ricostruttivo, francamente mi pare che sia un modo spiazzante per realizzare cose che andavano realizzate, non è che andavano soltanto segnalate in ambienza altrui, andava invece segnato alla capacità ricostruttiva dell'amministrazione che non c'è stata, Cioè questa presa di coscienza di dover fare dopo un evento naturale e drammatico come il terremoto imponeva un tipo di prestazione d'opera politica e amministrativa particolarmente diversa, cosa che non si è verificata. Giorgio De Matteis, in questo senso che cosa può offrire, quali garanzie offre secondo voi? Il fatto che i miei amici l'abbiano scelto significa evidentemente che ha la cifra, la caratura per poter essere un'alternativa rispetto al modo sonnolento, al modo fintamente protestatario con cui si è gestita la cosa pubblica locale fino ad ora. Il governo Monti ha il suo modo di vedere come si sta comportando, anche se obiettivamente è poco tempo, ma nei confronti di questa tragedia e di queste esigenze che ci sono all'Aquila, come si sta comportando rispetto al precedente governo? Non so, devo dire che l'altro governo soprattutto alla via è stato molto generoso tenendo conto di una considerazione di generosità e di solidarietà espressa agli italiani e non soltanto agli italiani, compresa la presenza del G8 all'Aquila. Poi non si è materializzato tutto ciò che andava confortato dal messo in opera di un disegno ricostruttivo che è complicato, difficile, però che ha bisogno di una maggiore vicinanza a partire dalle risorse. Le risorse in questo caso, al governo Monti ne vedo abbastanza poche, quindi probabilmente il rischio è che c'è una forma di latitanza o di distanza o un recupero delle possibilità e delle opportunità che va a lungo andare e non a medio termine. Ultima domanda, vale lo stesso discorso per l'Italia? Questa crisi si sente davvero e c'è una sorta di insofferenza nei confronti del nuovo governo che magari prima all'inizio non si sentiva? Io non sono tra quelli che ritiene di operare una specie di equazione da quello che fa il governo o non fa il governo, ma certamente il fatto che sono piccoli minitori che si suicidano, famiglie che non riescono ad andare avanti, testimoni di uno stato di salute abbastanza drammatica del paese. Con la famiglia italiana che regge a fatica, in alcuni casi non regge e arriva fino anche alla esplosione di una collera che apparentemente è con se stessa, che mette in discussione il mondo intero che è di fronte a lui e portando a gesti che sono gesti non spiegabili, forse capibili in parte, ma gesti disperati.